Beppino, come va? Venite dentro, ingegnere! Ah no, non sono più ingegnere, Beppì! Ma vuoi a te se sali ancora su quella bicicletta? Ma io in bicicletta li sono andate! Torna presto! Ma non speriamo bene! Che di a nonna Mariella sia delle uova fresche da vendermi! È buona, vero? Sì che è buona, però a me piacciono di più i gelati! Anche a me piacciono i gelati! Preca gente! Ha visto! Ha visto! Fatto! Buon appetito! Buon appetito, Beppino! U spoiled qualcosa da benedkare! Anche a me piacciono i gelati! Ero może prima? Buon appetito! Anche a me piacciono i gelati!